Ma buonasera a tutti ragazzi e bentornati nei miei nuovi video sul mio canale. Oggi siamo qui su The Pathless, su come sbloccare un trofeo. Acrobata, trofeo veramente veramente molto semplice che poi lo farete anche senza avervene conto. In breve dobbiamo schioccare 5 frecce mentre siamo in aria sui talismani, così da rimanere più volte in aria. Una volta fatto ciò il trofeo si sblocca veramente in modo semplice. Vi ricordo di lasciare un like, commentare per chi non riesce a capire come farlo e iscrivervi al canale per rimanere al giornale nei prossimi minuti del porto. Buona visione!